Ma che fai? Eh dai che abbiamo la casa tutta per noi Sofia sarebbe bellissima, solo che... Solo che? Solo che la nostra prima volta me l'hai reimmaginata di sera Perché non aspettiamo che faccia buio? Buio? Ma sono le 11 di mattina Ecco appunto Vabbè Ragazzi Capannate tutto Grazie a tutti Grazie a tutti